Un pareggio importante sicuramente con una squadra che mette in difficoltà chiunque, però magari gli ultimi 20 minuti con l'uomo in più potremmo spingere un po' di più. L'Unice sta lavorando molto di più sulla fase difensiva, abbiamo subito zero gol in due partite, penso che sia un dato positivo rispetto alle prime partite dove magari subiamo troppi gol e adesso con calma cercheremo di servire meglio i nostri attaccanti per riuscire anche in fase offensiva a fare un po' meglio, che ci manca un po'. Mi trovo benissimo col mister, mi parla, mi aiuta, mi dà dei consigli che mi servono e sono contento di tutta questa fiducia. Cerco sempre di ripagarla in qualsiasi posizione mi metta, dietro, davanti non conta, vuole che do tutto e sto cercando di farlo. Arriva l'Udinese che è uno sconto diretto, cercheremo di farla come una finale perché sappiamo l'importanza di quella partita lì, perciò con la testa libera cercheremo di fare i punti.